nuovo record di contagi domani tamponi gratis agli studenti al san salvatore apre l'ambulatorio anti ricoveri saldi partiti nelle marche gli sconti invernali little service espugna eboli e vince la supercoppa gentilissime telespettatrici e gentilissimi telespettatori un ben ritrovati un augurio di felice anno nuovo anche dal sottoscritto e ben trovati sul canale 633 di rossini con l'appuntamento serale dedicato all'informazione all'interno del contenitore di rossini news partiamo oggi con le notizie sulla pandemia e nuovo record di contagi purtroppo la quarta ondata di pandemia registra un nuovo picco oggi nelle marche sono infatti 2147 i casi di covid 19 rilevati con il 17 per cento di tamponi positivi al contagio la provincia di pesaro urbino è attualmente la meno colpita con 231 casi ma intanto l'incidenza da contagio schizza 697 casi settimanali ogni 100.000 abitanti salgono a 296 i recovery cioè 8 in più di ieri ma scendono di una unità le degenze in terapia intensiva con 52 pazienti attualmente in questi reparti posti letto che dal 7 gennaio saranno aumentati di 30 unità con l'attivazione temporanea della struttura ospedaliera di macerata feltria oggi si contano anche altri cinque decessi nelle marche ciscorscritti alle province di ancona e macerata si tratta di tre uomini e due donne di età compresa tra i 77 e i 93 anni e di fronte a questa dilagante crescita di contagi preoccupa l'imminente rientro sui banchi scolastici domani la regione marche ha predisposto 16 punti di screening tamponi dedicati esclusivamente agli alunni compresi tra i 5 e gli 11 anni che presentano sintomi o che hanno avuto un contatto diretto con casi positivi screening che verranno effettuati nel giorno dell'epifania fra le 8 e 30 alle 14 a pesaro in via lombardia al codma di fano e al punto tamponi di urbino in zona sasso è però notizia di oggi che sono state allestite anche altre due postazioni all'ospedale lanciarini di sasso corvaro dalle 8 alle 12 e l'8 gennaio nella zona eliporto di cagli in via meucci dalle 14 alle 18 lunedì 10 gennaio presso l'ospedale san salvatore di pesaro verrà inaugurato l'ambulatorio anti ricoveri dedicato alla somministrazione dei nuovi farmaci antivirali remdesivir e molnupiravir farmaco quest'ultimo che è stato appena recapitato a marche nord in 70 confezioni l'ambulatorio sarà in funzione 12 ore al giorno per i pazienti positivi al covid con sintomi non gravi che potranno sottoporsi alle nuove cure per poi essere rimandati a casa evitando l'ospedalizzazione passando dalla prevenzione del ricovero a quella del contagio da oggi è cominciata la vendita delle mascherine ffp2 in tutte le farmacie comunali di pesaro e gabice al prezzo calmierato di 75 centesimi luna cambiamo argomento oggi sono partiti i saldi invernali in tutte le marche e in questo servizio andiamo a vedere come è cominciata la prima giornata di acquisti nel centro storico di pesaro mercoledì 5 di gennaio data di partenza dei saldi invernali a pochi giorni a poche settimane dagli acquisti natalizi parte dunque questa sessione ormai tradizionale dedicata agli acquisti a prezzi scontati parte in tutte le marche parte qui a pesaro ci troviamo in via branca ed una partenza importante per i saldi agevolata da una bella giornata che invita alla passeggiata agli acquisti e noi di rossini tv abbiamo fatto un giro tra i commercianti del centro storico di pesaro per capire come viene valutato questo momento dei saldi invernali e come è stato il natale che ci si è lasciati alle spalle abbiamo iniziato oggi anche se anche durante il periodo di natale avevamo fatto delle promozioni perché il periodo è quello che è purtroppo siamo partiti diciamo oggi il primo giorno abbastanza bene abbiamo sconti fino al 50 per cento il nostro prodotto comunque è un prodotto abbastanza medio basso come tipologia di prezzo però di qualità quindi diciamo ci aspettiamo che comunque come è andato bene il natale andrà bene anche questo periodo di saldi dovrebbe essere un momento di pieno incasso ma non è così quest'anno è un po' in calo è stato un natale migliore rispetto all'anno scorso ma comunque con gli incassi inferiori rispetto alla pandemia affrontiamo questi saldi con il 50 per cento sull'abbigliamento il 30 per cento sulla calzatura quindi un ottimo affare insomma da fare gli acquisti vanno tutelati sempre e noi abbiamo una nostra cliente la storica che comunque viene curata anche in questo senso partiamo con i saldi ufficiali per tutti e con una percentuale molto calmierata come nostra abitudine quindi diciamo il giusto per diciamo favorire ulteriori acquisti di gennaio è stato un buon natale sicuramente questo incremento della pandemia ha frenato sicuramente gli entusiasmi quindi questo è assolutamente accaduto però c'è sempre diciamo la voglia anche di acquistare qualcosa di nuovo per gratificarsi quindi è una cosa anche a livello proprio personale per uscire mentalmente da questo bailam mentale mediatico relativo sempre comunque alla pandemia e a proposito di negozi la CNA pesarese applaude la modifica al nuovo regolamento comunale per le attività economiche e decoro del centro che prevede che non potranno più aprire nell'asse centrale compreso fra via Branca, via San Francesco, via Cavour e via Mastro Giorgio categorie merceologiche come emporie e bazar orientali oltre a rivendite di catene low cost un nuovo regolamento che punta invece a favorire l'apertura in centro di attività di artigianato artistico e tipicità locali si è tenuto questa mattina il funerale di Giacomo Grossi il noto ristoratore della capannina sul monte San Bartolo un lutto che ha riunuto tantissimo in motociclisti che in corteo hanno accompagnato la Salma dalla strada panoramica alla chiesa di Soria per l'ultimo saluto a Giacomo 100 motociclette in corteo fra le curve del San Bartolo e la chiesa di Soria così Pesaro ha dato l'ultimo saluto a Giacomo Grossi conosciutissimo ristoratore della capannina che negli anni anche grazie alla passione di Giacomo è diventato un box naturale per i centauri della panoramica Giacomo se ne è andato lunedì a 50 anni dopo aver strenuamente lottato con una malattia che non gli ha lasciato scappo lasciando lacrime e sgomento fra i tantissimi pesaresi che apprezzavano la sua simpatia, la sua cordialità e gentilezza virtù apprezzati in quel mitico sesto tornante che Giacomo aveva reso un animato punto di ritrovo per appassionati delle due ruote motociclisti che questa mattina si sono ancora una volta ritrovati nel piazzale della capannina che getta lo sguardo panoramico su Pesaro hanno accompagnato la salma fino al funerale nella chiesa di Soria scortando Giacomo per l'ultima volta fra le pieghe dei suoi amati tornanti un lutto che ha sconvolto Pesaro seguito 24 ore dopo da un altro dolore atroce quello per la brutale scomparsa prematura di Alex Eusepi 38enne vigile del fuoco, consigliere del quartiere PD a Villa Fastici e parte attivo dell'associazione culturale periferica a strapparlo alla vita una caduta in scooter nel centralissimo piazzale Primo Maggio che ha lasciato senza parole La strada che porta sulla spiaggia di Fiorenzuola di Focara tornerà finalmente fruibile grazie al bando del Ministero della Transazione Ecologica vinto dal Comune di Pesaro Ad annunciarlo è il Vice Sindaco Daniele Vimini L'amministrazione è riuscita ad aggiudicarsi un contributo di circa 500 mila euro al quale affiancherà un finanziamento regionale per i lavori di recupero infrastrutturale della strada che permetterà di mettere in sicurezza il percorso rendendolo più facilmente percorribile dai mezzi di soccorso, bici o mezzi elettrici Un tratto di strada che a causa dell'incendio del 2017 in questi anni consentiva solo l'accesso pedonale e senza balaustra laterale Ed ora spazio ad un'altra intervista del nostro Giorgio Ricci che continua a guidarci all'approfondimento di tante realtà della città di Pesaro dedicate alla tutela di malati e categorie fragili Oggi parliamo di piattaforma solidale e della sua missione all'insegna di accessibilità e inclusione Grazie 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 Anche due, 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 possessi gli istruati un'esplodione, ed è solo un'esplodione, se la solità viene da. Si qualcuno ha漢 math, di più esplodione, di più esplodione, da mai un'esplodione, di più esplodione. Un'esplodione, cioè, di più, lo modo di essere, di più da un'esplodione, di più, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.